Ben ritrovati gentili telespettatori di Canale 2 sul 90, lo ricordiamo questa è la nuova numerazione che ha voluto il Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, noi siamo sul 90 quindi da aprile dell'anno scorso, torniamo a parlare di elezioni comunali ad Altamura in questo nostro appuntamento di oggi, lo facciamo con piacere perché abbiamo uno dei due protagonisti al ballottaggio ovvero l'Avvocato Gianni Moramarco che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Saluto voi e ancora una volta vi ringrazio da un lato per l'attenzione che prestate per le problematiche della nostra comunità, dall'altro lato per lo spazio che mi offrite. Ecco Avvocato, resta l'amarezza un po' di questo risultato, lei che cosa ci può dire oggi a qualche giorno dal ballottaggio? Io sono sempre stato abbastanza lucido sin dalle prime battute, sin dalla fase dello spoglio, beh sì l'amarezza soprattutto per quanto riguarda il gran lavoro che hanno fatto gli amici che hanno creduto nella mia persona o hanno creduto nei progetti che abbiamo messo insieme, però dopo di che io ero pronto a qualsiasi risultato per cui sapevo perfettamente bene che si poteva anche perdere al primo turno, già il fatto che abbiamo superato il primo scoglio, abbiamo superato la prima fase e siamo arrivati alla seconda, già questo mi ha riempito di gioia, di gratificazione, ma è ovvio che nessuno vuole perdere in questo mondo. Ho come dire una struttura soprattutto filosofica tale da poter elaborare molto bene questi risultati anche perché poi alla fine ci sono anche tanti valori da coltivare e tanti interessi da coltivare per cui sicuramente il mio impegno pubblico sarà a tempo pieno e sarà adeguato anche nella fase dell'opposizione e però questo magari mi darà la possibilità anche di coltivare anche altri aspetti della vita pubblica. Ecco, io posso riportare quello che dice la gente in questi giorni dopo il risultato del balottaggio, siccome si tratta veramente di una condizione mai verificata, a nostra memoria non è mai successo che per soli 18 voti si vincano o si perdano le elezioni comunali e allora la gente dice ad Altamura non abbiamo un sindaco, ne abbiamo due perché in realtà sono pari merito, non è possibile decidere un sindaco solo ed esclusivamente per 18 voti, ora lasciamo perdere se questa cosa verrà ricontrollata, ripresa, però se guardiamo un attimo il dato solo a questi 18 voti insomma è bizzarro. Se si considera poi il rapporto fra 18 che è la differenza che divide me da Antonio Petronella e la si rapporta al numero dei votanti davvero stiamo parlando di una bazzecola, però qui il problema è un altro e questa è l'analisi che formulo sin dalle prime battute. la città è divisa, la città è divisa in due parti esatte e sicuramente una parte non si sente rappresentata dall'un candidato, l'altra parte che rimane non si sente rappresentata dall'altra e questo è un problema che si deve porre anche perché bisognerà proporsi di saldare le due città. Purtroppo durante la campagna elettorale, dico purtroppo perché si tratta di una valutazione negativa che ho compiuto, ho denunciato anche nei comizi questa situazione di estrema polverizzazione, di estrema divisione della città, siamo divisi tutti su tutto, ognuno ha un'opinione e una soluzione diversa da quella che ha l'uomo che sta accanto e questo mi ha davvero preoccupato. Nello stesso tempo abbiamo avuto modo anche di verificare quella che è la situazione nei vari settori, nello sport ci sono situazioni fortemente contrapposte, nel mondo dell'impresa ci sono idee proposte completamente diverse. Devo dire che anche nel mondo della socialità non c'è un'unanimità, una forza comune, una progettualità comune e questo è davvero un dato preoccupante. Questo l'abbiamo notato pure noi negli anni, non si riesce ad andare d'accordo in questa città, non si riesce a fare unione. Io temo che non ci siano due altamurani che siano d'accordo su una questione, per esempio ho riscontrato che c'era da un lato chi richiedeva la sicurezza per correre le strade e quindi richiedeva la bassa velocità delle auto, il controllo della velocità, ma accanto aveva magari il coniuge che diceva esattamente il contrario. Questo è il dato che ho riscontrato e che purtroppo oggi emerge e si coagula a seguito di questo risultato elettorale. Una città che si divide così fortemente è una città che ha due anime. Noi abbiamo tra l'altro il problema anche fisiologico di una città articolata in più città. Io ho parlato durante la campagna elettorale della città consolidata, ma della città del centro antico, della città di 30 capilli divisa da un muro, l'ho definito un muro, ma in realtà è una strada, 30 capilli, che è una città a parte che opera per proprio conto con una propria autonomia e questo sicuramente non ci fa onore. Durante lo spoglio lei era nel suo comitato, che cosa è accaduto se ce lo vuole raccontare? È accaduto quello che accade normalmente quando si fa il tifo per una o per l'altra soluzione. È accaduto che c'è stato un momento in cui abbiamo sorpassato il candidato Petronella e quindi gli amici che stavano con me ad assistere e a raccogliere i dati sezione per sezione hanno gioito. Poi siamo andati sotto e quindi c'è stato un momento di panico. Ma sempre testa a testa, eravate, erano vicinissimi. Poi piano piano stavamo recuperando e quindi c'è stato un filo di speranza. Però guardate il problema non è avere 18 voti in meno. Io mi pongo il problema se ne avessi avuto 18 in più. Forse sarei ancora più preoccupato in questo momento. Perché non è una vittoria netta. Assolutamente no. Assolutamente no, anche perché abbiamo fatto una campagna elettorale piena, densa, intensa. Una campagna elettorale che penso mai si sia svolta in questa città, mai si erano fatti programmi di una certa rilevanza, mai obiettivi così importanti, mai soluzioni anche nel breve medio-lungo termine. Per cui orgogliosi di tutto questo, anche perché penso che qui Altamura durante il corso di questa competizione abbia cambiato pagina e nel tempo per le votazioni del futuro, soprattutto per le comunali, si dovrà far riferimento a questa impostazione che noi abbiamo dato, d'altro canto una impostazione corretta, una impostazione reale, rispettosa. Questo anche a dispetto delle definizioni che sono state date su quello che è il nostro modo di essere rispettosi. Mi dispiace sotto questo profilo che il sindaco Petronella abbia rifugito i confronti su una base di una propria scelta, addebitando la responsabilità agli altri o definendo degenerante il nostro approccio. Questa cosa sicuramente non mi ha fatto piacere, anzi devo dire mi ha offeso, ma proprio perché abbiamo tenuto un comportamento leale e corretto e abbiamo parlato soltanto di contenuti cercando di non far riferimento in alcun modo, magari contrariamente a quello che era accaduto nel passato, alle persone e alle storie delle singole persone. Ecco, quando c'è stato il risultato alla fine dello spoglio vi siete sentiti? No, appena quasi ultimato lo spoglio ho mandato io un messaggio di auguri a Petronella, dopo qualche ora mi ha chiamato lui, per cui sì, anche perché i rapporti fra me e Petronella sono sempre stati corretti, rispettosi, salvo questa sua valutazione che per me è irrispettosa ed è irriguardosa proprio… Forse è dettata anche dal momento, chi lo sa? No, no, dettata in maniera lucida, no, un attimo, le giustificazioni possiamo darci le spiegazioni ma le giustificazioni no. In maniera lucida, ben consapevole, ribadita, ripetuta, replicata da Antonio Petronella mi dispiace che lui magari si sia reso protagonista di dichiarazioni del genere, soprattutto conoscendo me da ragazzino, per cui al di là di questa defiance, mi auguro che Petronella un giorno ci dica, ci spieghi in quale momento il clima sia diventato di inquisizione e quando la nostra campagna elettorale sia degenerata, però al di là di questo dico molto fair play. Anche nel confronto dei giornalisti non è stata carina questa cosa perché… Non è stata irrispettosa solo nei confronti, è stata irrispettosa anche nei confronti dell'elettorato, però evidentemente l'elettorato non si è sentito offeso se alla fine ha votato. Vabbè, pochi voti di differenza, però la rimonta c'è stata da parte sua. C'è stata una fortissima rimonta. È notevolissima, poi considerando che voi avevate meno liste rispetto a loro. Anche per questo c'è stata una forte rimonta, però ripeto, sicuramente è stata premiata la nostra campagna elettorale fondata soprattutto su proposte molto serie nei vari settori, proposte tutte molto fattibili. Ma, ecco questa è un'indiscrezione che le chiedo, ma voi avevate preparato come loro i fuochi d'artificio nel caso di Vittoria? Assolutamente no, non avevamo preparato né i fuochi di artificio né tantomeno i bicchieri. Avreste festeggiato diversamente? Avevamo soltanto delle bottigliette d'acqua, sono quelle che abbiamo utilizzato, perché non davamo nulla per scontato, assolutamente no. C'è stato un momento in cui lei si rimprovera qualcosa che magari è andata storta durante la campagna elettorale, che magari le avrebbe potuto far recuperare dei voti, qualcosa che avrebbe cambiato oggi? Sicuramente ci sono state delle scelte che ieri o oggi potrebbero far pensare che la campagna elettorale poteva assumere una dimensione diversa o risultati diversi, però voglio dire sono state scelte molto consapevoli, molto misurate, nello stesso tempo anche consapevoli di quello che poteva essere il risultato per me negativo, così magari come è stato, ma le assicuro che avrei fatto quello che ho fatto oggi, precisiamo subito, così usciamo fuori dall'equivoco, io sono un meridionalista convinto sin dal momento in cui ho frequentato i banchi di scuola, bene, un meridionalista convinto come me non poteva mai e poi mai accettare la bandiera della Padani, così sia chiaro questo concetto, nello stesso tempo un meridionalista convinto come me non poteva in alcun modo accettare una trasversalità, una contraddizione infinita, che poi si è registrata, d'altro canto noi abbiamo come dire una coerenza logica che non poteva coniugarsi con quella che è l'incoerenza di una trasversalità, se abbiamo dichiarato dal primo momento che dovevamo essere una coalizione in discontinuità con quello che era stato quantomeno il recente passato, bene, è quello che abbiamo fatto, per cui non mi sembra che io debba rimproverarmi qualcosa, probabilmente la storia un giorno mi dirà o magari quando dico la storia può essere anche il prossimo futuro, anche l'oggi o anche il domani qualcuno mi criticherà o mi contesterà queste scelte, ma io ne sono fiero invece, tra l'altro mi pare strano che a fronte di una scelta di questo tipo che ha una coerenza importante anche sul piano non solo della storia personale, ma anche della storia della nostra città, Leonessa di Puglia nel 1799 e poi momento anche Altamura come città anche protagonista nella fase risorgimentale, non potevo certamente venire meno a questi principi. D'altro canto invece mi fa specie sentire che uomini che siedono nella Camera dei Deputati o che invece siedono nelle giunte regionali, oggi o ieri meglio parlavano di laboratori, di laboratori che mi fanno davvero preoccupare. Se questo laboratorio che a Altamura ha preso forma in questa maniera attraverso facce completamente contrapposte, io sono davvero preoccupato per il futuro della città di Bari e sono preoccupato per il futuro della Regione Puglia, se questo sarà il percorso che sarà osservato. Ecco Avvocato, lei penso che di fronte a questo risultato ha preso una decisione, se fare ricorso, andare a fondo per capire se le operazioni di scrutinio si sono svolte in maniera corretta, gli errori ci possono sempre essere, poi di fronte a un risultato che non è netto io credo che il dubbio verrebbe a chiunque, quello di verificare se tutto è stato fatto in maniera corretta. Certo, io decisioni insieme agli amici che mi sostengono non ne ho, non ne abbiamo prese perché non si possono prendere le decisioni in maniera a prioristica. La decisione è quella comunque di fare una verifica in primo luogo informale di quelle che sono le segnalazioni che ci sono pervenute, devo dire che sono tante le segnalazioni di irregolarità che ci sono pervenute. C'è un dato logico che comunque non quadra. Il dato logico è questo, che a fronte di 18 voti di differenza che mi dividono da Antonio Petronella, vi sono 431 schede nulle. Bene, 431 schede nulle nell'ambito di operazioni di ballottaggio mi sembrano davvero tante ed è questa una considerazione condivisa anche dagli esperti di diritto elettorale, per cui ovviamente questa deduzione non è sufficiente per poter sostenere o intraprendere un ricorso. Nel frattempo ci stanno arrivando una serie di segnalazioni, tutte molto importanti, se queste segnalazioni saranno anche in numero adeguato per poter fare un ricorso, certo non ci sottrarremo da questo addempimento anche nel rispetto di quella che è la volontà elettorale, cioè se è l'elettorato… Certo, non dovete farlo solo per voi ma anche… Io a maggior ragione, non lo devo fare solo per me perché tra l'altro voglio dire che io non ho mai posto la mia persona al centro di questo impegno, perché al centro di questo impegno ho posto la mia città, quindi non è una questione personale, sicuramente se lo farò, lo farò soprattutto per gli amici della coalizione che fortemente hanno voluto la mia candidatura, che fortemente l'hanno sostenuta, ma lo farò per i principi della democrazia a cui tengo perché è per me la democrazia insieme alla nostra Costituzione italiana e la Bibbia. A proposito di quello che è accaduto durante il giorno delle votazioni, del ballottaggio, sui social, ma sappiamo che i social sono terra di nessuno, lei ha avuto problemi con i carabinieri quel giorno, che è successo? No, assolutamente no, anche nella mia storia professionale non ho mai avuto difficoltà con i carabinieri, abbiamo sempre stabilito un rapporto di dialogo, di confronto, certe volte anche acceso, ma sempre rispettoso nell'ambito dei rispettivi ruoli. E' accaduto che dinanzi ad una sezione ho reincontrato il maresciallo dei carabinieri, il comandante della stazione carabinieri di Altamura, che avevo incontrato pochi minuti prima in un'altra sezione, laddove si stava verificando qualcosa di quantomeno anomalo, oltre che magari di abnorme. E quindi avevamo già avuto un primo momento lì, di incontro, dove gli avevo segnalato queste anomalie che avevo notato al di fuori delle sezioni, e quindi poi ci siamo ritrovati di lì a qualche minuto in un'altra sezione, perché stavo girando molto velocemente, proprio perché avevamo avuto varie segnalazioni, come dire, di irregolarità. E quindi ci siamo nuovamente soffermati per commentare quello che stava accadendo e quali potevano essere le misure giuste e adeguate da poter adottare. E su questo, purtroppo, come lei sa, come i cittadini sanno, c'è qualcuno che si è permessa di mettere su, di montare una fake news, laddove hanno, magari si è inteso, si è fatto intendere che magari i carabinieri mi stessero allontanando. Voglio precisare che ero anche a 200 metri abbondanti dalle sezioni, quindi nessuno mi poteva allontanare e nessuno avrebbe potuto farlo. Allora, fermo restando, ipotizziamo per un attimo che il risultato rimanga questo, che sia stabile, può darsi pure che dal controllo eventuale dei voti, può darsi pure che il divario aumenti, tutto può essere. Non è detto che le cose vadano in un verso, può darsi pure che si rafforzi il risultato di Petronella, questo lo dobbiamo anche pensare. In tal caso lei rivestirà la veste di consigliere comunale al Comune di Altamura, è emozionato per questo? Sì, perché per me è un ruolo importante quello dell'opposizione, perché nella democrazia ci deve essere una forza di governo, magari in questo caso il sindaco, ci deve essere una forza di opposizione che deve anche verificare quella che è l'attività che viene compiuta quotidianamente. Per cui un ruolo importante, rinunciabile, è un ruolo a cui dovremo strutturarci, dovremo organizzarci, io mi auguro di conservare l'unità della mia coalizione e quindi trovare qui anche un metodo di lavoro che ci consenta, che ne so, di distribuirci i ruoli, di dividerci gli incarichi sul piano delle responsabilità, proprio per rendere più funzionale l'attività di controllo. Voglio dirle subito che per quanto mi riguarda io non mi lascio in alcun modo condizionare dai risultati, avevo in mente insieme agli amici di dar vita, ecco questa volta sì ad un lavoro propositivo indipendentemente dal risultato, per cui mi auguro di mettere su, appena possibile, con gli amici della coalizione, una scuola di politica. E questo ha dei vari di collaboratori, Gallo, Marrocco, che hanno grande esperienza. Gallo, Marrocco, Saponaro, Centricelli, ci sono tanti altri amici che sono stati eletti insieme a loro e dico abbiamo bisogno di fare formazione, abbiamo bisogno di preparare i giovani amici ai prossimi appuntamenti. Io ho già dichiarato che al di là di questa verifica che potrebbe essere compiuta non mi candiderò in alcuna altra occasione o scadenza, per cui uno dei miei compiti è non solo coordinare l'attività di opposizione, ma anche e soprattutto formare i giovani che vorranno fare politica. Per cui questo è il compito che assumo con piacere e che è l'obiettivo immediato che mi pongo insieme agli amici, proprio stamattina ne abbiamo parlato e siamo tutti molto, come dire, orgogliosi di questa scelta, di questa soluzione o meglio di questa iniziativa. Ho visto alcuni titoli di giornale che sul risultato di Altamura dicevano che ha vinto il centro-sinistra perché loro riportano come se ci fosse il PD dall'altra parte contro il centro-destra. Noi vogliamo ricordare che erano due coalizioni, quasi tutte e due di centro-destra, la sua forse aveva una connotazione più di destra, ma il PD non c'era, questo lo vogliamo ricordare perché se ne è parlato poco in questa campagna elettorale. Il PD scompasso completamente. Non c'era, ma c'era, la lista Salvini non c'era, ma c'era. La cosa interessante di questo preteso, fra virgolette, laboratorio di cui parla l'onorevole del territorio o l'assessore del territorio è che c'erano tutti e due, d'altro canto nessuno dei due si è mai preoccupato di smentire. D'altro canto gli abbracci molto affettuosi fra l'onorevole della lista Salvini e il Presidente Emiliano, nello stesso tempo le condivisioni di palco fra l'onorevole della lista Salvini e nello stesso tempo gli assessori della Giunta Emiliano la dicono tutta. Sarà probabilmente una trasversalità che ha pescato a destra, non so dove, ma è comunque connotata sotto lo schema e legida della Giunta regionale. D'altro canto se si sono mossi due assessori regionali che in questo Paese pescano in un certo modo consenso e nello stesso tempo si è mosso il consigliere regionale che qui è nato, evidentemente una connotazione c'è. D'altro canto poi qui è un luogo, Altamura è diventato come tutti gli altri luoghi, un luogo di bandierine, ognuno mira a mettere la bandierina della titolarità o quantomeno del controllo. Evidentemente Altamura si ritiene che possa essere oggetto di controllo della Giunta regionale. Questa è la lettura che facciamo, che faccio io, è una lettura molto individualistica che non appartiene ovviamente alla mia coalizione, immagino che i partiti della mia coalizione potranno anche dissentire su questa valutazione. Però il dato oggettivo è questo, che il Partito Democratico non ha voluto partecipare a questa competizione con un simbolo tradizionale, lasciando orfani i propri iscritti. Nello stesso tempo la lista della padagna, perché per me è questa l'esatta definizione, pur di coniugarsi con il Partito Democratico ha rinunciato ai propri simboli. Ma questo immagino che sarà una questione di tipo nazionale, le segreterie dei partiti nazionali, del PD e di Salvini penso che dovranno preoccuparsi di affrontare il problema e valutare se, come dice l'assessore o l'onorevole, potrà essere Altamura un laboratorio da seguire per il futuro. Io mi auguro di no. Io senza offendere nessuno, speriamo, mi auguro che Emiliano con la velocità, la solerzia con cui è arrivato l'altro giorno per fare gli auguri al nostro sindaco, sia così veloce e attento ad andare all'ospedale della Murgia a fare gli auguri a coloro i quali sono in lista di attesa per delle visite che magari faranno ad agosto, a settembre o anche oltre. Mi auguro che vada anche lì a fare gli auguri a coloro i quali hanno problemi di salute e non hanno una visita da poter fare velocemente. Altamura ha due grossi problemi che, come dire, sono di competenza regionale. In primo luogo la discarica. È una bomba ad orologeria e io ho davvero timore per la salute collettiva della nostra città. Invece altro problema è quello del nostro ospedale che dovrebbe essere un polo sanitario di eccellenza, ma mi dispiace smentire la giunta regionale, questo non accade. D'altro canto siamo a rischio, abbiamo grosse difficoltà non soltanto per le liste di attesa, abbiamo difficoltà perché manca personale sanitario, mancano le infrastrutture, nello stesso tempo ci sono dei reparti a mezzo servizio. Certo, va bene. Allora, Avvocato, io la ringrazio, le faccio i miei auguri perché comunque rivestirà un ruolo importante in Consiglio Comunale e poi è una storia che comincia in maniera... Io la ringrazio, ringrazio Canale 2, mi auguro che anche dai banchi dell'opposizione io possa svolgere un servizio di informazione nei confronti dei miei concittadini e mi auguro che sotto questo profilo Canale 2 ci potrà continuare a dare spazio e magari anche stabilendo che ne so un contatto continuo, anche telefonico, anche in diretta con i cittadini. Anche perché la legge prevede proprio per i mezzi di informazione che si debba dare più spazio alle minoranze e quindi a chi è in opposizione. Questo è fondamentale. No, ma è giusto che sia così. Non lo dicevo solo come minoranza, ma me lo dicevo come servizio alla città, Canale 2 lo ha sempre fatto, ma io sono a disposizione per contribuire a rendere concreto questo servizio. Anche noi siamo stati un po' tirati in ballo in questa campagna elettorale, però le critiche come sempre arrivano da chi non ha mai pagato uno stipendio e chi non ha mai avuto le spese che abbiamo noi per andare in onda, quindi ci fa piacere che queste critiche siano assolutamente inconsistenti. Allora, grazie a Gianni Moramarco per essere stato qui con noi, al quale abbiamo fatto gli auguri anche al sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella. Noi diamo l'appuntamento, diamo la linea a Emanuele Giordano con Chichirichi, Canale 2 c'è, ritorna domani.